Buongiorno Daedo, una decina di giorni fa circolava una storia che era troppo bella per essere vera e infatti purtroppo non era vera, cioè quella di un attacco DDoS, quindi Denial of Service distribuito quindi un attacco mirato a interrompere le azioni, le operazioni di un sito web, di un server insomma attaccandolo con migliaia di richieste al secondo in modo da rendere il carico insostenibile per il server e buttarlo giù questo DDoS sarebbe stato creato con una botnet di spazzolini elettrici sapete che gli spazzolini elettrici oggi spesso si connettono via bluetooth a un'app installata sui cellulari e quindi l'idea dietro a questa notizia, che poi era più o meno stata diffusa da Fortinet ma all'interno di scenari abbastanza ipotetici, era che in questi spazzolini elettrici girasse come gira effettivamente del software Java e questo software fosse stato infettato con un malware e a questo punto tutta questa rete di spazzolini elettrici fosse stata poi sfruttata per lanciare centinaia di migliaia di richieste al secondo al sito web di una compagnia svizzera tirandolo di fatto giù. Questa era la storia così come era circolata su qualche sito di news purtroppo però poi è stata abbastanza alla svelta smentita prima da esperti di sicurezza e poi dalla stessa Fortinet questa roba non poteva essere vera anche perché gli spazzolini elettrici non si connettono direttamente a internet ma appunto passano per un'app che sta sui cellulari quindi per arrivare a infettare con del malware gli spazzolini bisognava passare per una grossa campagna di compromissione della supply chain quindi riuscendo ad arrivare ai server da cui l'app viene installata oppure compromettendo l'app stessa in qualche modo e quindi arrivando a sfruttare i dati che l'app manda a un server centrale da cui poi in qualche modo si poteva riuscire a attaccare questa compagnia svizzera però insomma lo scenario è abbastanza fantasioso infatti non è vero però per un attimo abbiamo avuto il sogno di questa gang di cybercriminali che vanno ad attaccare un'azienda svizzera armati di spazzolini elettrici e di malware java sarebbe stato un sogno meraviglioso purtroppo ci siamo svegliati in un mondo che invece ha a che fare con le gang di cybercriminali vere fortunatamente notizia di oggi ed è quello di cui parleremo nella puntatissima del buongiornone di oggi è che una di queste gang la più grossa, la più famosa, la più attiva sul mercato Lockpit è stata sgominata e lo faremo partendo da come la notizia è stata data su giornali italiani per poi arrivare a qualche dettaglio da attestate invece di settore internazionale quindi se volete oggi parliamo di Lockpit allora oggi è il 21 febbraio e la notizia è apparsa ieri quando parlo di testate generaliste italiane tipicamente vado a vedere il post perché mi pare quella un pochino più attenta ai dettagli anche a come riportare notizie quindi è inutile che vada a vedere come questa notizia è stata riportata sul Corriere su Repubblica che di solito prendono i comunicati e magari li allargano un pochino ma non fanno molto di più ecco il post magari spiega qualcosa di meglio però è interessante perché il post non si deve rivolgere a un pubblico già informato un pubblico di settore ma a un pubblico generale quindi deve cercare di mediare tra il linguaggio tecnico e invece la divulgazione la divulgazione della notizia e quindi è interessante vedere che tipo di approccio scegliono purtroppo gli articoli del post spesso non sono firmati quindi non sappiamo chi l'ha scritto segnalo intanto due cose dall'apertura della notizia sul post che si intitola è stata bloccata l'attività del gruppo di criminali informatici Lockpit la prima è che il gruppo Lockpit viene chiamato criminali informatici invece di hacker e questo secondo me è un progresso notevole nel mondo dell'informazione italiana la seconda è che l'immagine di apertura scelta per colorare questo post è lo screenshot di un editor che ha aperto un progetto Next.js per qualche motivo si vede l'app .tsx con l'import di alcune librerie material UI e anche il client Apollo per GraphQL quindi forse per qualche motivo il post insomma ritiene che Next.js sia assimilabile alle azioni criminali di Lockpit questo naturalmente è uno scherzo hanno cercato un'immagine splash gli sembrava carina questa però carino no? associare Next.js a cybercriminali comunque vi leggo un po' come parte l'articolo del post per poi farvi un'idea di cos'è questa notizia e poi andiamo a approfondire un po' meglio una grossa operazione internazionale di cybersicurezza ha bloccato le attività del gruppo di criminali informatici Lockbit uno dei più attivi al mondo l'operazione è stata guidata dalle autorità del Regno Unito e hanno partecipato diversi altri paesi europei e gli Stati Uniti secondo le informazioni che hanno diffuso le forze dell'ordine avrebbero preso il controllo della piattaforma informatica usata da Lockbit e dei codici che permetterebbero di decrittare i dati rubati alle vittime degli attacchi informatici fatti dal gruppo poi spieghiamo un po' meglio questa cosa Lockbit era appasso per una prima volta nel 2020 da allora i suoi software sono stati usati per attacchi informatici contro circa 2000 persone e organizzazioni solitamente appartenevano alla categoria dei ransomware cioè software che consentono di arrivare ai dati contenuti nei server di un sito e tenerli bloccati con l'obiettivo di chiedere in cambio un riscatto di denaro che mi sembra un'ottima descrizione di che cos'è un ransomware Lockbit si occupa di sviluppare i software che poi vengono concessi ad altre persone o organizzazioni in cambio di denaro erano queste ultime definite da Lockbit affiliati a eseguire effettivamente gli attacchi e anche qua ottima spiegazione perché Lockbit è quello che viene definito un ransomware as a service cioè non è un gruppo che si occupa direttamente di effettuare gli attacchi e di infettare i server con il loro software ma è un gruppo che produce questo software che viene chiamato appunto Lockbit che è arrivato l'anno scorso alla versione 3.0 e dei gruppi affiliati affittano il servizio accedono alle reti delle vittime di solito attraverso ingegneria sociale email di phishing tipicamente e poi dopo aver critato e bloccato tutto usano sempre la piattaforma di Lockbit per richiedere e collezionare gli eventuali riscatti proseguendo la lettura secondo il ministero della giustizia degli Stati Uniti con i sistemi di Lockbit sarebbe stato raccolto l'equivalente di 110 milioni di euro in riscatto gli attacchi avevano coinvolto tra gli altri i servizi informatici della pubblica amministrazione italiana vi ricorderete l'anno scorso verso fine anno c'era quel caso Westpol e gli attacchi appunto a certe PA italiane poi l'azienda di aerei Boeing e una grande banca cinese questi sono alcuni, ce ne sono molti altri infatti poi dice tra gli obiettivi più frequenti c'erano soprattutto scuole e ospedali purtroppo la National Crime Agency l'agenzia di polizia britannica che ha guidato l'operazione ha detto che sono stati fatti chiudere 28 server legati a Lockbit in vari paesi e che sono stati congelati 200 conti di criptovalute riconducibili al gruppo le pagine internet da cui si accede ai suoi servizi sono state bloccate Lockbit ha detto di avere server di scorta qua sarebbe lo server di backup ecco però viene tradotto così in server di scorta che non sono stati coinvolti nell'operazione ma la veridicità dell'affermazione non è ancora stata verificata per il momento comunque si sa solo che le operazioni del gruppo sono state interrotte ma l'efficacia a lungo termine dell'operazione è ancora difficile da vautare qui perché naturalmente se Lockbit ha davvero dei server di backup che può ripristinare ecco potrebbero riuscire a rimettere in piedi l'operazione vi leggo infine un altro piccolo estratto secondo un esperto dell'agenzia di cyber sicurezza MCSoft l'operazione potrebbe aver segnato la fine di Lockbit come marchio perché le loro operazioni sono state compromesse e altri criminali informatici non vorranno fare affari con loro vado anche su D-Day qua un articolo che è invece firmato da Sergio Donato che si intitola Sgominata la cyber gang criminale Lockbit che aveva attaccato fra gli altri West Pole ricorda insomma il caso italiano qua l'immagine di apertura è una classica immagine di stock con un laptop che ho scritto sopra ransomware e delle mani incatenate insomma abbastanza forte ecco e qui si parla di questa operazione di polizia che sul posto non aveva nome in realtà ha un nome infatti D-Day lo riporta l'operazione si chiama Operazione Kronos e insieme all'NCA quindi l'agenzia britannica ha visto la partecipazione anche di Europol, di FBI e di organizzazioni di polizia di vari stati europei D-Day riporta anche l'articolo di un ricercatore di cyber security che su Twitter è conosciuto come Sono Claudio che riporta il messaggio che Lockbit ha mandato ai suoi affiliati attraverso una app di messaggistica criptata e Claudio traduce questo messaggio a alcuni pezzi di questo messaggio in italiano ve lo leggo dice gentile affiliato si rivolge Lockbit agli affiliati vi informiamo di un recente incidente di sicurezza che potrebbe aver interessato alle vostre informazioni personali Lockbit prende sul serio la sicurezza dei vostri dati e si impegna a mantenere i più alti standard di protezione dei dati quindi naturalmente Lockbit prende un po' in giro i comunicati delle vittime dei ransomware nel mondo reale che di solito fanno questo tipo di comunicazione ai propri utenti poi prosegue il nostro team ha recentemente rilevato un accesso non autorizzato ai nostri sistemi che riteniamo sia stato effettuato da un gruppo noto come NCA qui anche qua una presa in giro naturalmente dei comunicati ufficiali la violazione potrebbe aver riguardato l'accesso a informazioni personali tra cui nomi, indirizzi email e password criptate al momento non vi è alcuna prova che siano state violate informazioni finanziari o numeri di previdenza sociale questo è un po' quello che poi Lockbit ha mandato ai suoi affiliati ecco c'è sempre su D-Day un po' un raccontino di che cos'è Lockbit che parla del suo software ransomware as a service giunto alla versione 3.0 dice di essere una gang situata nei Paesi Bassi completamente apolitica e interessata solo al denaro e c'è poi in conclusione un paragrafo su cosa potrebbe succedere a Lockbit e infatti adesso il sito di Lockbit il server di Lockbit è sotto il controllo delle forze dell'ordine ecco e per tutta la settimana ospiterà dice D-Day tramite delle pubblicazioni quotidiane una serie di informazioni che sveleranno le capacità e le operazioni della cyber gang qua ci sono dei dettagli frizzanti e divertenti che poi vi rivelo che D-Day non riporta poi vi vado a leggere l'agenzia ha inoltre ottenuto il codice sorgente della piattaforma Lockbit e una vasta quantità di informazioni sui sistemi di attività e gli affiliati oltre alla piattaforma sono stati smantellati anche 28 server appartenenti a gang associate a Lockbit arrestati due persone in Polonia accusate complessivamente quattro persone negli Stati Uniti e congelati 200 conti di criptovalute collegate al gruppo qua mi permetto anche un piccolo LOL sui conti di criptovalute allora questa notizia era stata riportata il 19 febbraio da Bleeping Computer con dei dettagli sull'operazione in generale è tutto quello che vi ho già letto dal post e da D-Day c'è un dettaglio tecnico in più interessante cioè come avrebbe fatto l'N6 a entrare e prendere il controllo del server di Lockbit e ce lo dice quello che è il capo dell'operazione Lockbit che è conosciuto come Lockbit SAP che comunica attraverso l'app di messaggistica TOX la messaggistica criptata e il suo status su questa app ora appunto scrive che l'FBI è riuscita a entrare nel server di Lockbit sfruttando un exploit PHP quindi il punto debole del server Lockbit era una vulnerabilità di PHP e gli agenti di polizia sfruttando questa vulnerabilità sono riusciti a entrare poi a eseguire il software remoto evidentemente proprio prendendo il controllo di tutte le macchine quindi si può dire PHP dalla parte delle guardie ma vi do altri dettagli ancora più frizzanti perché le forze di polizia una volta che hanno preso il controllo del server di Lockbit li hanno anche presi in giro perché hanno creato un sito che è lo stesso sito che Lockbit usa per informare le sue vittime del fatto che i loro dati sono in loro possesso e gradualmente saranno rivelati al pubblico con dei countdown su vari livelli di solito iniziano da dati poco sensibili fino ad arrivare in caso di mancato pagamento del riscatto allo svelamento di dati molto critici e la polizia praticamente ha fatto questo ha messo su un sito che ricalca esattamente questa struttura però rivelando giorno per giorno nel corso di questa settimana dei dati relativi a Lockbit stessa quindi vedete qua sullo screenshot di questa home page che ci sono varie parti dei dati di Lockbit che sono stati pubblicati alcuni che saranno pubblicati nei prossimi giorni fino ad arrivare addirittura fra due giorni a chi è Lockbit SAP quindi potremo sapere venerdì qual è l'identità di questo fantomatico leader di Lockbit oltre ad arrivare poi anche alle sanzioni applicate quindi proprio un enorme dito medio a Lockbit fatto proprio dagli agenti della NSA e poi ci sono cose che interessano anche le vittime di Lockbit perché oltre a tutti i dati che hanno preso sulla gang e sulle sue operazioni sono anche dati in possesso delle chiavi di decrittazione oltre mille chiavi di decrittazione e queste chiavi le hanno poi pubblicate su un portale dedicato a cui le vittime possono accedere per provare a scaricare dei decrypter e vedere se appunto i loro dati riescono a essere recuperati sfruttando questi software quindi se siete o siete stati vittime di Lockbit provate ad andare sul portale NoMoreRansom e vedere se con i decrypter che sono stati pubblicati recentemente potete riuscire a sbloccare alcuni vostri dati o in tutto questo faccio mio anche un warning che viene dato alla fine di questo articolo su The Register cioè il fatto che non è detto che Lockbit a questo punto sia stata sgominata del tutto da una parte ci sono i server di backup che potrebbero effettivamente esistere non lo sappiamo ma se esistono potrebbero permettere a Lockbit di ripristinare le sue attività e di prendere le operazioni Lockbit poi si è dimostrata abbastanza resiliente nel corso degli anni a operazioni di questo tipo anche se non di questa portata di questa efficacia quindi abbiamo vinto questa battaglia ma non siamo ancora proprio sicuri di aver vinto la guerra vediamo un po' come si evolverà e l'ultima nota tecnica che vi do è sulla vulnerabilità PHP sfruttata dall'NSA per entrare nei server di Lockbit che è una CVE nota è la CVE 2023-3824 eccola qua la vado a prendere dal database di CVE del NIST quindi dall'agenzia di security statunitense ecco qui il dettaglio della CVE che è stato pubblicato l'8 novembre quindi dovevate patchare cari Lockbit il vostro server e comunque è una vulnerabilità che riguarda il loading di file far per chi conosce e ricorda l'ambiente PHP che può portare a un buffer overflow e quindi a esecuzione remota di codice e quindi cari cybergang mi raccomando tenete patchati i vostri server soprattutto attenti a PHP perché come abbiamo visto sta dalla parte delle guardie vi faccio vedere anche in ultimo come corollario ecco il sito NoMoreRansom eccolo qua NoMoreRansom.org trovate un po' di informazioni ecco su che cosa sono i ransomware come funzionano come potete prevenirli e proteggerli e poi anche la pubblicazione insomma degli elenchi delle chiavi di decryptazione note su alcuni appunto ransomware c'è ovviamente qua eccolo qua Lockbit 3.0 potete andare a scaricare il decryptor se siete stati vittime insomma di Lockbit potete provare a vedere se con questo decryptor riuscite a recuperare i vostri dati curiosità questo tour è stato fatto dalla polizia giapponese insomma quindi anche kudos ai poliziotti giapponesi Allora vi do due link carini per oggi il primo è Grok scritto G-R-O-Q punto com è l'interfaccia grafica web su modelli di intelligenza artificiali i modelli presenti sono LAMA2 e MIXTRAL quindi voi potete andare su Grok l'interfaccia è la stessa dei vari chatbot selezionare un modello per esempio selezionate MIXTR e poi vi fate domande e vi dà appunto le risposte che vi aspettate da un modello quindi per esempio se voi chiedete scrivimi una legia funebre per la Cybergang Lockbit o Lockbit orgogliosa Cybergang che ha disseminato il terrore nei sistemi ed ora giaci qui in silenzio e in riposo ti ricordo e canto la tua malinconica fine riposa in pace Lockbit la tua eredità sarà sempre un monito un avvertimento un ricordo amaro per coloro che seguiranno le orme della tigre non si dimenticano mai e questo era l'Elegia prodotta da MIXTRAL insomma se volete giocare un po' con questi modelli e non volete passare per CiaGPT o per Bing potete provare anche questa novità insomma Grok.com l'altro link che vi do è un po' per divertirvi un po' per informarvi insomma dell'esistenza di questo progetto che in realtà è un po' di anni che esiste però l'ho recuperato si chiama WikiHouse lo trovate su WikiHouse.cc che cos'è? in pratica sono dei design open source di blocchi per costruire case quindi sono blocchi di legno che voi potete ritagliare oppure farvi ritagliare da WikiHouse stessa insomma da un'agenzia affiliata a WikiHouse che seguendo il design di una casa che poi fate voi vi costruiscono pezzo per pezzo insomma la vostra casa di legno quindi ogni blocco ha vari incastri che potete insomma usare per comporre la vostra casa ci sono qua sul sito un sacco di guide ci sono le stampe per fare appunto gli intagli da seguire per intagliare il legno WikiHouse.cc è il secondo link di oggi ho finito qui quindi grazie per avermi seguito anche in questo buongiornissimo ve li dico che stamattina è uscita l'ultima puntata di Contenus Delivery che abbiamo registrato ieri in studio abbiamo parlato di .NET e .NET MAUI con Codrina Merigo quindi magari se siete del gruppo dell'ambiente ecco di sviluppatori .NET o di MAUI insomma vi interesserà sentire cosa abbiamo chiacchierato insomma oppure se non lo siete magari volete sentire un po' che cosa bolle in pentola su quel framework su quei lidi ecco per capire un po' come si sta muovendo il mercato quindi vi invito ecco a seguire anche l'ultima puntata di Contenus Delivery io mi fermo qui domani non ci sarò perché sono impegnato in altre faccende quindi forse ci rivedremo venerdì o forse chissà mai più arrivederci ciao